Quattro giornate dedicate alla promozione della parità di genere attraverso la comunicazione e il percorso di formazione organizzato dall'Asla Taranto e dal Comitato Unico di Garanzia con una serie di eventi presso l'Auditorium della Cittadella della Carità e la Direzione Generale di Viale Virgilio. L'iniziativa fortemente voluta dal Direttore Generale Asla Taranto Vito Gregorio Colacicco è stata realizzata e introdotta dalla responsabile formazione dell'Asla Ionica Margherita Taddeo e presentata dalla Presidente del Comitato Unico Maria Teresa Coppola. La prima giornata è stata dedicata a linguaggio e discriminazione di genere, spazio anche ai laboratori teatrali a cura di Crest, Terra Magica e il Teatro delle Forche. È importante riflettere su quanto a volte nel lessico italiano ci sia una sorta di discriminazione rispetto al genere femminile. Se infatti noi pensiamo ad esempio ad alcuni termini che al maschile hanno un significato accettabile, questo spesso viene modificato nel momento in cui lo stesso termine viene riportato al femminile. Quindi vogliamo sottolineare l'importanza della comunicazione, l'importanza delle parole. Questo corso, che è un corso corposo di quattro incontri, si propone di avviare una riflessione critica nei confronti dei linguaggi istituzionali che la Asla utilizza, proprio nell'interesse di individuare quelle che sono eventuali discriminazioni, anche involontarie, semplicemente perché passano attraverso il linguaggio che noi apprendiamo fin da quando siamo piccolissimi, in maniera da poter includere ambedue i generi alla stessa maniera. Grazie a tutti.